Buongiorno a tutti gli investitori da parte di Pietro Riglia, responsabile del blog Unocchio sui mercati azionari, nuovamente con la rubrica settimanale dedicata ai mercati azionari. In poche parole faremo un'analisi settimanale sia macro che tecnica sui vari indici internazionali con uno sguardo attento al nostro indice principale e ai temi più importanti che potrebbero mettersi in mostra nella nuova settimana. E anche l'ultima settimana sui mercati azionari internazionali è stata una settimana positiva, ricordo settima seduta consecutiva al rialzo, anche sulla scia delle notizie arrivate durante l'ultima parte della settimana che parlano di un mini summit Unione Europea-Grecia con sblocco di 2 miliardi di euro verso il paese ellenico con l'impegno greco di presentare al più presto un paio di riforme, anche perché le casse greche iniziano ad essere quasi al termine di liquidità, ricordo che abbiamo un rosso di oltre 3,5 miliardi. Su questa scia di questo mini accordo raggiunto tra l'Unione Europea e la Grecia per quanto riguarda la ristrutturazione appunto del debito greco, i bond triennali e ellenici sono scesi dal 24% al E20% e comunque in un mercato che vede i rendimenti obbligazionari ai minimi, alcuni dei quali negativi, cresce di settimana in settimana la voglia di equiti, unico asset in grado di regalare soddisfazione agli investitori. Quindi un sentiment che continua ad essere tutto rivolto al rialzo e ricordo che a migliorare appunto questo sentiment sono anche i forti acquisti durante l'ultima settimana sul settore minerario, energy e cementiero e ricordo con quest'ultimo che gode dei nuovi news per quanto riguarda merger acquisition appunto in Europa. Ulteriori segnali positivi sono anche i dati sulla raccolta dei fondi azionari europei che nell'ultima settimana, ottava al rialzo, hanno registrato 5,4 miliardi appunto di dollari di flussi netti. Ricordo che ormai siamo alla decima settimana consecutiva di saldi positivi e da inizio anno abbiamo raggiunto, abbiamo superato la quota di 41 miliardi. I flussi sono arrivati anche sul mercato e azionario più 14 miliardi di dollari, nonostante comunque si rimane dall'inizio dell'anno in calo di 33 miliardi. Sessa cosa sui paesi emergenti che da inizio anno registrano un deflusso di oltre 11 miliardi. L'ultima settimana era una settimana anche importante per quanto riguarda la riunione della Fed e la Yellen, nonostante abbia tolto dal proprio comunicato stampa e l'aggettivo è paziente, si è dimostrata ancora una volta bullish appunto in quanto ha affermato che se il board, il funk alzerà i tassi di interesse, questi però non avranno appunto alcuna fretta di farlo e già è da giugno. Importante saranno i prossimi atti macro che riguarderanno l'occupazione e l'inflazione per capire appunto quando arriverà il primo rialzo dei tassi in America dopo alcuni anni di liquidità a basso e costo. Andiamo velocemente a dare uno sguardo ai nostri grafici, sullo sfondo abbiamo il nostro spread BTP Bund, è una settimana che è stata abbastanza volatile ma vi si viaggia sempre sull'importante soglia dei cento e punti e base con il rendimento che sul decennale scende sotto aria 1,20%. Andiamo a dare anche uno sguardo alle materie prime e tra queste uno sguardo importante all'oro che durante l'ultima settimana ha rimbalzato su gli importanti supporti posti in aria 1140-1145. Ora saranno i test posizionati in aria al 1180 ex supporti di venute ore resistenze a decretare un possibile primo segnale di ingresso appunto e sull'oro. Per quanto riguarda invece il petrolio nonostante il rimbalzo arrivato nelle ultime sedute della scorsa settimana si rimane comunque sempre al ribasso e il recupero appunto delle quotazioni arrivate nell'ultima seduta della settimana rispecchia anche il forte calo del dollaro che andiamo a vedere è tra e poco e non dipende da fattori connesse alle situazioni appunto fondamentali con il settore che resta ossaggio come abbiamo detto più volte nei nostri interventi settimanali dell'eccesso di disponibilità appunto a cui fa e da contraltare appunto i consumi che sono sotto le attese. Graficamente primo segnale di recupero arriverebbe con il ritorno oltre i 58 dollari mentre le attese appunto sono di un invece di un continuazione di questo trend ribassista fin verso i minimi toccati all'inizio 2015 in aria 46,40. Andiamo a dare uno sguardo agli indici esteri parlavamo appunto di un ritorno della liquidità sui mercati americani 14 miliardi di dollari nell'ultima settimana e questo viene confermato anche dalla ripresa del Dow Jones che chiude la settimana sopra 18 mila punti e le attese sono per un test sui suoi top e massimi di sempre posizionati in aria di 8 mila 300 punti oltre i quali verrebbe inviato un importante segnale d'acquisto. E altro indice principale che durante l'ultima settimana è andato incontro anche da alcuni leggere prezzi di beneficio che sono stati utili per scaricare alcuni indicatori che erano arrivati in una sezione di eccesso è il DAX che chiude la settimana sopra la soglia dei 12 mila punti. Attenzione perché anche qui le attese sono per un possibile e test sui suoi massimi di sempre posizionati di 12 mila 200 punti oltre i quali verrebbe inviato un nuovo segnale di forza. Ricordo comunque continuo sempre di rientrare sull'indice tedesco solamente in presenza di debolezze di breve periodo. Al ribasso quindi i primi e primi campagne della primi e i supporti degni di rilievo sono posizionati in area 11 mila 800 e a seguire 11 mila 400 punti. E andiamo a dare uno sguardo al nostro indice principale. Indice principale che chiude la settimana il rialzo di oltre il 2 per cento aria 23 mila 170 e siamo vicinissimi ormai ai e top del febbraio 2011 posti in area 23 mila e 200 oltre i quali verrebbe inviato un nuovo segnale di forza e possibile appunto in sezioni dei guadagni fin verso i top della seconda parte del 2009 in area 24 mila e 0 e 60 24 mila cento e punti. Quindi una struttura grafica quella del Fuzzimib che continua a migliorare appunto di settimana in settimana. Ricordo sempre gli upgrade che giungono e da importanti banche ed affari sui principali listini europei in particolar modo quelli della appunto i listini appunto italiano spagnolo dei paesi e periferici. Per quanto riguarda al ribasso primi segnali d'attenzione arriverebbero con il ritorno sotto i minimi della settimana alle 22 mila e 500 punti anche se un primo campanello d'allarme che potrebbe portare delle importanti prezzi di beneficio arriverebbero con la rottura di area 21 mila e 900 punti livello dove transita anche il super e trend. Tra i listitri titoli appunto all'interno del nostro paniere che potrebbero regalare soddisfazioni durante la prossima settimana andiamo a vedere una mid cap e con appunto il titolo andiamo subito a vedere il titolo la doria titolo che sembra aver concluso il suo pullback durante appunto l'ultima settimana e la candela di venerdì un hammer contenuta appunto delle quotazioni sopra area 15 livello dove transita il super trend e ci avvisa appunto di una probabile ripressa del trend di fondo al rialzo con i primi target posizionati in area 16,40-10,50 e a seguire i top di sempre che abbiamo raggiunto appunto ad inizio settimana in area 18,20-18,30. Si cambia merc settore e si va sulle utility con il titolo A2A che si conferma sopra le prime importanti resistenze post in area 0,96 e il titolo appunto dell'utility milanese invia un importante segnale appunto conferma quel trend ascendente in atto ormai da metà ottobre che avrebbe un prossimo target appunto sui top del 2014 in area 1,03. Si rimane sempre sul blue chip con il titolo fin meccanica e titolo che ha avuto alta volatilità durante la settimana in scia ai dati di bilancio del 2014 anche qui presi di beneficio pullback che è andato a testare i primi importanti supporti post in area 11 euro e attenzione perché anche qui le attese sono per un possibile ritorno verso i top e dei top di periodo posizionati in area 12 euro oltre i quali verrebbe inviato un importante segnale di forte un importante segnale di acquisto. Infine abbiamo il titolo SETM titolo che è lanciato anch'esso a testare le importanti resistenze post in area 9,20 e 9,25 oltre i quali anche qui avremmo un importante segnale di forza un importante segnale d'acquisto capace di proiettare sul grafico settimanale e andiamo a vedere le prossime resistenze poste fin verso la soglia dei 10 euro. Con questo siamo giunti al termine dei titoli più interessanti all'interno del nostro paniere principale. Ricordo sempre chi fosse interessato al servizio di report e di segnalo operativi basta condottare la pagina Premium e Trend Online o scrivere appunto alla mail che avete sullo sfondo, un servizio di intraday e multiday dedicato ad azioni ETF con monete e valute non solo con l'uso delle mail ma anche degli SMS. Ricordo durante la prossima settimana importanti dati macro che arriveranno dall'Europa, gli indici appunto ZEV tedesco, alcuni indici PMI e poi importanti anche ad azioni di banchieri centrali che potranno darci soprattutto oltreoceano qualche novità in più per quanto riguarda appunto la EFED. Con questo è tutto, l'appuntamento è al prossimo weekend, ricordo sempre chi fosse interessato, abbiamo ogni giorno dalle ore 18 in poi il commento serale, il commento finale sui listini appunto del vecchio continente che potete trovare nel canale YouTube di Trend Online. Con questo è tutto, ringrazio tutti sempre per l'attenzione, buon weekend e buon trading.